Ok, partirei proprio da questo, cioè dall'esigenza della digitalizzazione che è l'innegabile presente. Chiaramente questa considerazione nasce da un contesto attuale che stiamo vivendo, ma poi è un fatto innegabile che le nuove generazioni, quelle che rappresentano la crescita del nostro paese e del futuro, sono delle generazioni che già nascono digitali. Per quanto riguarda i dati, chiaramente l'emergenza sanitaria ha accelerato la trasformazione della struttura organizzativa e produttiva di molte imprese e ha dimostrato ulteriormente quanto sia prioritaria la digitalizzazione di piccole e medie imprese. E' noto a tutti che il tessuto imprenditoriale italiano è rappresentato per oltre il 90% da piccole realtà. Chiaramente c'è stato tutto il tema del lockdown, tutto il tema del distanziamento sociale, tutte le ripercussioni che ha avuto già a delle tendenze che erano in atto, pensato al tema dell'e-commerce o al tema della consegna a domicilio. Ma chiaramente tutto il contesto ha accelerato questa domanda e questa necessità. Io mi soffermerei velocemente sulla distinzione tra digitalizzazione e trasformazione digitale, perché all'interno delle imprese sono due aspetti diversi. Qui brevemente ho riportato un esempio di digitalizzazione, cioè che potrebbe essere la trasformazione di una rivista cartacea per dei clienti in una newsletter online, la creazione di uno shop di e-commerce online, oppure la gestione dei dati dei clienti utilizzando un sistema di CRM, oppure dei controlli dei processi di produzione tramite delle automazioni e tramite computer. Invece il tema di trasformazione digitale è un concetto più ampio, che comprende proprio una trasformazione di modelli. Un esempio può essere un fornitore di bevande che riceve gli ordini B2B, che sostanzialmente cambia la previsione di produzione e la previsione appunto poi di consegne in base a una piattaforma, un software che con degli algoritmi gli dà una certa predettibilità e cambia ad atto il proprio modello di business in base a una trasformazione digitale. Quindi una trasformazione digitale che ha un impatto su tutte le parti organizzative dell'azienda. Poi vorrei riprendere due concetti, uno che ha ripreso l'assessore, che è quello dei giovani e del bisogno di competenze digitali, e l'altro tema, trattato dall'ultimo interlocutore, molto stimolante, sul tema delle innovazioni e di cosa si può mettere in campo. I punti imprese digitali. In breve, diciamo, qual è il ruolo delle camere di commercio? Brevissimo, vi faccio un brevissimo, un brevissima sintesi. L'allora ministro Calenda mise in piedi il piano Industria 4.0, sostanzialmente la riflessione era basata sul fatto che l'Italia è un paese fortemente manifatturiero, ma che avevamo un gap per quanto riguarda quelli che erano gli impianti di produzione industriale. Quindi attraverso il piano Industria 4.0, con una serie di facilitazioni, si voleva e si è incentivato quella che è la riconversione del parco industriale. Poi, come dicevo in premessa, siccome la maggior parte del tessuto imprenditoriale in Italia è composto dalle piccole e medie imprese, questo tipo di intervento si è articolato anche come impresa 4.0 e quindi le camere giocano un ruolo per la diffusione, diciamo, dei temi di innovazione digitale presso le piccole e medie imprese per cercare di incentivare questi processi di trasformazione digitale. Come vedete, le tematiche di impresa 4.0 sono trasversali e toccano vari temi, dall'intelligenza artificiale, dalla realtà aumentata, dalle stampanti 3D. Chiaramente poi la difficoltà è declinare queste tecnologie in maniera operativa e concreta nel business delle aziende, nei diversi settori, in un'ottica ammatrice, settore, prodotti, che tipo di tecnologia, diciamo, può incentivare quello che è il business delle aziende. Perché poi, alla fine, non ci dimentichiamo mai, i fondamentali, cioè le aziende devono produrre e vendere. E quindi, diciamo, la tecnologia deve essere a supporto di un'ottimizzazione della produzione e di un'ottimizzazione di quello che sono poi i processi di vendita, legati adesso però alle nuove variabili vincolo, che oramai io le definirei variabili vincolo, che sono quelle della sostenibilità ambientale e temi sociali. Ecco, attraverso il PID, a livello nazionale, sono stati sviluppati degli strumenti di assessment per, diciamo, valutare qual è il livello di maturità digitale dell'azienda e qual è, diciamo, il punto a cui un'azienda si trova per avviare un percorso di trasformazione digitale e poi valutare un po' qual è la consapevolezza dell'azienda rispetto alle opportunità rappresentate, appunto, dai processi di digitalizzazione. Questo, diciamo, in quest'asse qua riassume un po' quello che è il portafoglio di servizi offerte alle aziende, dove sostanzialmente c'è una parte relativa all'informazione, alla formazione, poi c'è una parte di bandi e voucher che è di supporto alle imprese e poi ci sono i vari strumenti di assessment a un livello di approfondimento, primo livello e secondo livello per arrivare poi a quelli che sono proprio degli incontri con gli esperti per avviare quelli che sono, diciamo, dei progetti di trasformazione digitale. Per esempio, ritornando al target delle imprese che si tratta, come vi dicevo, di piccole e medie imprese, la maggior parte, diciamo, un tema fortemente sentito è quello del, diciamo, del posizionamento online delle aziende e quindi abbiamo sviluppato due strumenti che sono il light online check-up e l'online check-up, dove sostanzialmente si fa un'analisi del posizionamento dell'azienda sia dal punto di vista del sito, sia dal punto di vista dei social, sia dal punto di vista dell'e-commerce, se hanno presenza di e-commerce. E su questo poi si articola un piano assieme all'azienda, si indicano i punti di debolezza e si indicano quelli sono, diciamo, le azioni da implementare. Per esempio, qua ho riportato un caso di un'azienda che questo riporta che era una PMI che aveva poca dimestichezza con gli strumenti web ed è stato utile avere una valutazione, no? Diciamo, terza e neutrale e a questo punto, diciamo, poter indicare quelli che erano i punti di miglioramento nelle varie aree, diciamo, relative al posizionamento dell'azienda online. Questi qua sono gli strumenti che riguardano l'assessment, cioè il selfie, che è un assessment di autovalutazione dell'azienda che restituisce un report dettagliato nelle diverse aree aziendali di produzione, di commercializzazione, di amministrazione e il livello, appunto, di digitalizzazione dell'impresa, dando un ranking, quindi una classifica, dove si posizionano le imprese in base agli strumenti che hanno in casa, in base alle abilità. Lo strumento, il passaggio successivo, uno zoom, che sarebbe un incontro, nel frattempo, a proposito di giovani, il sistema delle camere di commercio, diciamo, ha lanciato questo piano anche dotandosi di giovani che sono stati formati, che sono le figure dei digital promoter, che sono stati formati nella tecnologia 4.0 e ricevono sempre, diciamo, degli aggiornamenti di formazione e incontrano le aziende per approfondire quelle che sono le necessità in ambito di trasformazione digitale. Poi c'è un tema di assistenza specialistica che si coinvolgono degli esperti mirati per fare lo step successivo, cioè dopo l'incontro con i digital promoter, si fanno degli incontri mirati per, diciamo, elaborare il piano di trasformazione digitale. Questo lo si fa attraverso degli esperti, attraverso un servizio di mentoring, che sono sostanzialmente dei professionisti che hanno messo a disposizione gli slot di ore gratuitamente, sono circa due giornate, che dedicano alle imprese per indirizzarle e guidarle nei loro progetti. E chiaramente come sistema camerale, come Camera di Commercio, tante risorse vengono indirizzate per supportare, diciamo, economicamente le piccole imprese, attraverso ogni anno vengono sviluppati dei bandi, sono dei bandi che sono dei voucher digitali che permettono alle imprese l'acquisto di tecnologie o di consulenze legate allo sviluppo di un progetto, però sempre di più stiamo andando nella direzione di sviluppare dei bandi che stimolino quello che è, appunto, diciamo, la progettualità da parte di giovani start-up o da parte di imprese. Infatti, per esempio, uno dei bandi ultimamente che chiaramente le numeriche si riducono in questo caso ma che è molto interessante è quello relativo alle start-up che nella presentazione di soluzioni l'abbiamo fatto, per esempio, in fase relativa al commercio per trovare delle soluzioni in fase di pandemia per facilitare la consegna, dovevano presentare in fase di bando oltre alla soluzione già sei imprese che sperimentavano la soluzione, praticamente. In tema di formazione, qua riprendo il tema dell'assessore perché ci sono tante ricerche, soprattutto in Lombardia, che è una regione virtuosa, sappiamo, non solo da questo punto di vista, ma proprio stiamo parlando dal punto di vista digitale, e c'è una forte domanda di competenze digitali da parte delle imprese, perché una delle difficoltà delle imprese nell'adozione di nuove tecnologie di trasformazione digitale è proprio quella di avere e avere in seno all'azienda gente in pianta stabile che possa seguire questa trasformazione digitale. Quindi là ci sarebbe tutto un tema da riprendere, uno degli obiettivi, infatti, per il 2022 che ci siamo dati anche noi come progetto e anche ci saranno dei dialoghi anche con Regione, già sono in corso, per capire come poter diciamo sviluppare anche dei programmi che facilitano diciamo la formazione di competenze digitali che possono andare a beneficio delle aziende. Io vi riporto qua per esempio questa formazione di mini master che abbiamo fatto all'interno del PID sono state rivolti o a giovani, per esempio sul market digitale per la promozione dell'impresa che appena sono finiti sono stati tutti piazzati in aziende e sia invece master e sia invece approfondimenti legati a personale che lavora già nelle aziende. Questo vi ho riportato diciamo una tabella di riepilogo un po' dei contributi che sono stati messi a disposizione del sistema imprenditoriale. Molti di questi di questi bandi vengono anche cofinanziati a livello regionale dal sistema delle camere e da Regione Lombardia in accordo di programma quindi c'è diciamo sinergia a livello istituzionale e poi diciamo ultimo ma non ultimo volevo parlarvi del progetto Digitexport che nasce all'interno del PID sostanzialmente questo ha un focus una focalizzazione sull'internazionalizzazione cioè come utilizzare le nuove tecnologie per favorire i processi di internazionalizzazione questo anche perché io oltre diciamo ad essere ingaggiato da Camera di Commercio come Digital Coordinator la mia azienda che è un'azienda diciamo controllata dalla Camera di Commercio si occupa di internazionalizzazione che è Promos Italia quindi abbiamo sviluppato questo progetto con focus sull'esportazione e sui processi di internazionalizzazione per farvi un esempio col Politecnico di Milano abbiamo sviluppato una piattaforma dove a secondo del proprio prodotto vengono indicati quali sono i marketplace più promettenti dove posizionare i propri prodotti per le aziende e anche la possibilità di fare degli incontri mirati su queste su queste tematiche anche il il PID il progetto PID punti di impresa digitale a livello nazionale vi è un premio molto ambito che è il premio top of the PID qui a conferma della dinamicità del nostro territorio noi da quando è nato il progetto le nostre imprese più che noi vincono i primi premi e quest'anno queste sono le tre imprese che hanno vinto i tre primi premi e sul tema della sostenibilità sui nuovi modelli di business e sul tema dei servizi commercio e turismo diciamo poi su questo tema che volevo un po' invece riprendere il diciamo uno delle suggestioni dell'ultimo interlocutore cioè dell'imprenditore che che è proprio questo cioè dire il tema della difficoltà da un lato che diciamo delle piccole o di chi fa start up di trovare poi uno sbocco imprenditoriale e quindi questo trade union tra l'impresa diciamo e dove avviene avviene la ricerca e poi ancora viene percepita in Italia una difficoltà rispetto ai mercati più maturi tipo il mercato statunitense di trovare trovare dei finanziamenti o allora come mi ricordo nell'era quando fu lanciato internet che per tutti era una novità dei business angels che proprio dovrebbero essere quelle figure cioè dire il fondo investe nell'impresa ma ti affianca anche dei manager o delle figure che ti aiutano a sviluppare a sviluppare l'impresa niente questa è soltanto una matrice che riporre diciamo quelle che sono in base al livello di maturità aziendale dell'azienda compila il selfie poi se è già pronto prende un appuntamento con lo zoom oppure e poi fino ad arrivare come vi dicevo al nostro secondo livello che è il livello poi di incontrare il digital promoter qui sulle slide ci sono i riferimenti dei digital promoter di cui vi dicevo per qualunque diciamo chi avesse qualunque necessità di informazione di approfondimento poi c'è un palinsesto ampio di formazione informazioni che ogni anno viene messo a disposizione delle imprese e che viene pubblicato diciamo nella sezione del sito della camera di commercio dedicato al PID grazie a tutti grazie a tutti